L'uomo più veloce del mondo tifa la squadra più rapida a conquistare lo scudetto in Germania. Usain Bolt ha infatti fatto i complimenti al Bayern Monaco per il suo ventitresimo Meisterschale. Sulla build di oggi infatti si legge che lo sprinter giamaicano si è inchinato davanti alla velocità e allo strapotere mostrato dai bavaresi in campionato. Vedremo quindi se la Juventus mercoledì riuscirà a dare un dispiacere ai tedeschi e a questo punto pure al giamaicano più famoso al mondo. Grazie.